presto stamattina abbiamo avuto due panel molto intensi la mattina, una presentazione di progetto il pomeriggio, un libro, siamo arrivati solo all'ultimo con il film, l'anno prossimo sparpaglieremo su più giorni per riuscire a essere più convincenti. Intanto ringrazio Nicoletta di essere venuta a Trento, perché tutti fuori dal nord ovest pensano che Trento e Trieste siano vicine, c'è chi parla di un ponte tra Trento e Trieste per via delle... In qualche modo, in realtà in un certo senso c'è. È un ponte immaginario, però sono molte ore di treno per arrivare qui. Dunque Nicoletta ha una storia lunghissima, pur nonostante la breve vita, di esperta di cinema e di consulenza artistica, o meglio vera e propria responsabile di film festival e in particolare il suo ruolo di codirettrice del Trieste Film Festival, che ha una storia a sua volta molto lunga, perché sono 35 anni quest'anno, ho letto. È nato nell'89, quindi veramente un film festival che dell'est Europa ha raccolto tutto quello che c'era da raccogliere, perché davvero nell'est Europa è successo l'Europa in questi anni. E quindi ho la straordinaria occasione finalmente di intervistarla io. Di Norma siamo noi che veniamo al festival con il nostro piccolo premio in mezzo a tanti importanti premi di un festival che ha vari concorsi, lungometraggi, documentari, corti. Ho letto che quest'anno avete ricevuto 1300 film, quindi una selezione difficile da fare questa. E con Nicoletta finalmente ho la possibilità di fare una chiacchierata pubblica in tema di cinema, di est Europa. Naturalmente non per cinefili con cultura cinematografica, ma per cinefili come me, che cercano nel cinema un'ispirazione per comprendere soprattutto le società. E quindi ti chiederei innanzitutto di raccontarci com'è evoluto in questi anni, anche soltanto negli ultimi venti, o dopo il crollo del muro se vuoi partire ancora più indietro. E in questo allargamento della cinematografia in un'Europa unita, o è un'Europa del Big Bang, stamattina l'abbiamo richiamata, dopo l'integrazione del 2004. Ma innanzitutto grazie per l'invito, Osservatorio Balcani-Caucaso ci conosce, ci frequenta da tanti anni, anzi addirittura ricordiamo che è dato un premio al miglior documentario, quindi insomma non siete degli ospiti passivi, siete degli ospiti anzi più che mai attivi. Ci lega ovviamente un interesse spinto verso le società di questa grande parte d'Europa che da anni chiamiamo la nuova Europa. E quindi è un interesse, se vogliamo, il nostro più culturale, cinematografico, ma che si intreccia con interesse anche di ordine politico, sociologico, antropologico, culturale, eccetera. Quindi diciamo in comune abbiamo i paesi che ci appassionano molto. Il cinema diciamo forse è uno, abbiamo anche le campane, che bello, benedicono questo incontro. Diciamo che il cinema forse è una delle discipline artistiche, è una delle arti che forse in maniera più immediata, in maniera più facile apparentemente, riesce a catturare con delle istantanee le società multiformi di questi paesi. L'est Europa è sempre visto erroneamente, soprattutto in Italia, come una specie di unico magma, diciamo senza delle particolarità all'interno, senza grandi differenti, con un'unica storia, no? Si ricorda solamente il fatto che tutti questi paesi appartenevano alla cortina di ferro, no? E che quindi avevano un passato comune comunista. In realtà l'Europa dell'Est è enorme, cioè è una macro area che noi stessi facciamo fatica a esplorare, a capire fino in fondo, a capire tutte le sfumature anche storiche della storia più recente, che ha spostato moltissime confini. Diciamo quando ho cominciato a lavorare col Trieste Film Festival, per esempio la Jugoslavia si stava sgretolando, la Cecoslovacchia aveva appena divorziato. Ecco, negli anni, diciamo, sono paesi che si sono evoluti moltissimo, ci siamo occupati delle repubbliche ex sovietiche. Ecco, qui è un mondo in continua trasformazione che sposta i confini, sposta i confini, sposta le lingue. Mi ricordo appunto, di nuovo, quando ho cominciato a prendere delle lezioni di serbo-croato, era serbo-croato. Adesso bisogna stare molto attenti, come dire, non definire questa lingua, semplificandola e semplificando tutto, semplificando quello che è successo negli ultimi 20-30 anni. Quindi bisogna muoversi sempre con molto rispetto, con molta delicatezza, facendo molti errori, naturalmente, ma, diciamo, nel rispetto, nel tentativo di capire questi paesi. Ritornando al cinema, diciamo, giustamente tu hai messo il 1989, come forse l'anno che ha segnato più di tutti gli altri un prima e un dopo. Ovviamente l'ha segnato per l'Europa occidentale, ma figuriamoci per l'Europa orientale. Questo è stato proprio una cesura, un'impossibilità nel tornare indietro. Sono cambiate le società, è cambiata l'economia, si è passata in maniera molto repentina da regimi socialisti a libero mercato, a un'Europa fatta di, appunto, coproduzioni, nel caso del cinema, eccetera. Quindi, da un lato, ovviamente, è stato più facile per tutti questi paesi di cui non si occupava nessuno. In Italia, ricordiamolo, forse l'unico paese che si è occupato in maniera organica dei paesi dell'Europa orientale, con delle meravigliose, memorabili e retrospettive, era la mostra del nuovo cinema di Pesaro, ancora con Miciche, c'è qualcuno che fa così con la testa, vuol dire che si ricorda quei periodi, ed erano retrospettive fantastiche, dove io, giovanissima, insomma, io ho seguito, diciamo, le ultime parti, ho imparato, per esempio, che cos'era il cinema dell'Unione Sovietica, che cos'era il cinema jugoslavo, che cos'era il cinema ciposlovacco. Quindi, da lì, forse, diciamo, ci sono stati, diciamo, degli spunti che mi sono voluta portare dietro. Quindi, questo, diciamo, è già un anno che terrei come uno spartiacque necessario per capire il cinema, per capire le società, per capire la storia di questa macro area mastodontica. Gli altri anni, che forse, invece, sono anche anni importanti dopo gli anni 90, che comunque sono seguiti da guerre, da conflitti nel cuore dell'Europa, noi pensavamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non sarebbe stato possibile, e invece siamo tornati in guerra. Trieste, non dimentichiamocelo, è a quattro chilometri dalla Slovenia. Quindi noi la Jugoslavia, come dire, era il nostro vicino di casa, si andava a fare benzina, si andava a mangiare, si andava a fare le gite fuori porta, non c'avevamo i parenti, gli amici, i vicini di casa. Quindi, ecco, per noi, diciamo, la guerra nell'Iugoslavia ha veramente significato forse una tragedia un po' più vicina, sentita in maniera più viscerale, più di pancia. Ecco, gli altri anni, diciamo, che ci permettono di capire come è evoluto il cinema dell'Est sono sicuramente gli anni, nei primi anni 2000, quindi immediatamente dopo il conflitto balcanico. Ricordiamo che i bombardamenti nati in Serbia erano nel 99, quindi gli anni 90 sono stati degli anni terrificanti, veramente che hanno, come dire, i cui strascichi ci sono, sono ancora vivi, vivissimi, anche nel cinema tutt'oggi. Ecco, ricordiamo, invece qui un elemento positivo, nei primi anni 2000, molti dei paesi di cui ci occupiamo, a partire dalla Romania, dalla Bulgaria, eccetera, pian piano, gradualmente, uno dopo l'altro, sono entrati a far parte dell'Unione Europea, con qualche grave mancanza, ancora oggi, con paesi che non vengono riconosciuti, ancora da molti paesi del mondo, penso al Kosovo, ma di fatto, paesi in cui c'erano già dei fermenti cinematografici importanti, penso alla Romania, che ha segnato forse una delle nouvelle vague più importanti, diciamo, in questo nuovo millennio, finalmente è entrata nell'Unione Europea. Questo che cosa ha significato per il cinema? E lascio stare, diciamo, tutte le implicazioni economiche, sociologiche, ma anche psicologiche, il fatto di appartenere a un'Europa di diritto di cittadini di serie A e non più di serie B, perché questo viene percepito, tra l'altro, moltissimo. Banalmente, ha significato per il cinema poter usufruire di quei fondi europei, ci sono dei programmi appositi che aiutano le coproduzioni internazionali, penso a Eurimage, diciamo quello più importante, Europa Creativa, e sono fondi che permettono le collaborazioni, le partnership, le coproduzioni tra questi paesi e i paesi dell'Europa occidentale. Sappiamo benissimo che le coproduzioni portano non solamente il danaro, ma portano l'accesso ad altri mercati, permettono ai film di essere visti altrove, perché poi, diciamo, tra le caratteristiche che vengono richieste è proprio quella della distribuzione in tutti i paesi che fanno parte di una coproduzione internazionale, ecco che negli anni 2000 quella che esplosa è stata proprio la distribuzione, se vogliamo, anche indipendente, piccola, isolata, magari in certi paesi non tutti, però di un certo tipo di cinema che all'Ofina da allora era completamente invisibile. In questo, poi magari ci torniamo, il Trieste Film Festival, diciamo, ha avuto un ruolo, perché di fatto, diciamo, siamo stati a lungo considerati, se vogliamo, una specie di distribuzione alternativa per tutti quei titoli assolutamente invisibili in Italia e per tutti quegli autori sconosciutissimi, ma che di fatto sono i grandi maestri, cioè sono i grandi rappresentanti, le grandi voci di questi paesi e che grazie al Festival potevano avere uno spazio, avere uno spazio per un artista, per un autore, è fondamentale, permette di essere conosciuto, permette di pagare il parlare col pubblico, di far parte di un dibattito, di uno scambio libero di idee. posso anche ricordare che negli anni 90, ai tempi in cui il mio festival si è dedicato a grandi retrospettive, forse le prime in Europa dedicate proprio all'onda nera jugoslava, che è stata una delle grandi nouvelle vague, diciamo, un po' nascosta, un po' censurata, che non ha avuto, diciamo, gli stessi esiti della, penso non so, la nova volna cecoslovacca. Ecco, grazie a Trieste, diciamo, abbiamo, allora curato, grazie al genio di Sergio Germani, una retrospettiva triennale, una specie di trilogia con centinaia di film, mentre la guerra era ancora incandescente nell'ex Jugoslavia, personaggi quali Purisha Georgevic, Petrovic, Makaveev, Gilnik, eccetera, eccetera, venivano a Trieste e le sere mangiavano con altri registi croati, bosniaci, sloveni, ecco, un festival è anche questo, è un momento di, come dire, di sospensione dell'emergenza, di sospensione anche di una guerra e la, diciamo, permettere agli artisti almeno nelle giornate di un festival di potersi incontrare, di potersi parlare, di poter avere quel dialogo che altrove sarebbe stato impossibile. Quindi ecco che, diciamo, la sensazione è quella che appunto grazie, diciamo, a questi momenti, queste tappe fondamentali tra l'89 e i primi anni 2000, questo tipo di cinema di cui ci occupiamo, insomma, con costanza, con passione ormai da tanto tempo, la mia impressione, ma forse è un'impressione condivisa in realtà, è che si tratti di un cinema sempre meno marginale, ma sempre, è sempre più centrale nell'Europa dell'Ovest, ovviamente con più gradazioni, a più, diciamo, diverse latitudini, in Francia, Germania, sicuramente, Belgio, sicuramente un cinema che esce in sala regolarmente, come qualsiasi altro tipo di cinema europeo, in Italia forse fa ancora un po' fatica, ma ci sono finalmente delle distribuzioni italiane molto coraggiose, molto cinefile, anche colte, che finalmente si sono approcciate a questo tipo di cinema e finalmente, diciamo, riusciamo a vederlo in sala o sulle principali piattaforme. Ecco, ripeto, in questo forse il nostro festival ha contribuito un po' a, come dire, un po' insistere che questo cinema era necessario, che bisognava occuparsene, a insistere, diciamo, che era necessario un coinvolgimento maggiore della società, a insistere che questo tipo di cinema fa parte della cultura di questi paesi che va necessariamente promossa e il cinema permette forse di capire questi paesi in maniera forse più veloce, più immediata. Penso a chi non sa nulla di questi paesi, chi non sa nulla del cinema di questi paesi, ecco, si può avvicinare tranquillamente Vergine, voglio dire, senza anche una grande cultura alle spalle, ecco, da lì può capire, può cominciare un percorso invece di avvicinamento così, senza aver paura di sentirsi da meno, ecco, non occorre essere dei grandi cinefili o dei grandi letterati o dei grandi esperti per potersi avvicinare con tranquillità a un cinema che ripeto parla a tutti. Noi una quindicina d'anni fa abbiamo fatto un piccolo lavoro di ricerca sull'industria cinematografica dei Balcani perché eravamo incuriositi proprio dal fatto che mentre quasi tutto il settore industriale di questi paesi fossero stati devastati dagli anni 90 nel caso del cinema nei Balcani si continuava a vincere premi internazionali in qualche modo era un'industria che era rimasta viva abbiamo fatto tante interviste anche a personale tecnico che è dietro la produzione di film per farci raccontare il passaggio allora è un lavoro decisamente datato perché 15 anni in questi paesi sono tantissimi rispetto a a noi però quello che era emerso allora era stata appunto questa trasformazione radicale che nasceva quindi era stato in grado di sopravvivere perché prima era un'industria che aveva avuto grandi investimenti ehm dei sistemi autoritari a cui serviva il cinema per la per la propaganda e poi era diventata invece uno strumento come dire era rimasto lì qualcosa per cui anche solo la delocalizzazione delle produzioni industriali in Bulgaria per esempio era aveva consentito la sopravvivenza di tutta questa grande quantità di tecnici eccetera tutto questo è andato velocissimo però non era questa storia non è sempre uguale per tutti i paesi e diciamo che forse uno di quelli che aveva una storia aveva vinto fino a quel momento anni 90 meno premi era stato meno noto era stato il cinema rumeno che invece ha avuto un'esplosione straordinaria appena dopo come se rispetto a Jugoslavia avesse una caratteristica particolare che la sua rinascita o questa nouvelle vague successiva fosse dovuta a qualcos'altro non davvero agli investimenti del regime socialista ma una transizione particolarmente favorevole è così è un'idea distorta no non è un'idea distorta però a volte le cose sono più banali di quello che sembrano nel senso che le nouvelle vague spesso partono con pochi mezzi anzi per la maggior parte sono caratterizzate da un'assenza di mezzi questo è interessante perché non sono le risorse economiche che spesso permettono diciamo a un fermento artistico di riprodursi e anzi di porsi come modello come diciamo come esempio per gli altri pensiamo al neorealismo italiano il neorealismo italiano è nato durante la guerra anzi prima della seconda guerra mondiale quindi con pochissimi mezzi con una scarsità di risorse eppure i capolavori sono tutti di quell'epoca oppure pensiamo alla nouvelle vague francese è nata proprio nei momenti come dire di maggiore crisi economica e quindi ecco che la camera a spalla diciamo ha rimpiazzato diciamo la strumentazione che di solito veniva usata per per girare i film camera a spalla che ha dato una libertà che può essere tradotta in una libertà anche artistica ma a volte come dire viene come dire mi dai questo faccio il cinema con questo in Romania è successo lo stesso diciamo che in Romania anche lì c'è stato un momento di cesura che è stato proprio il Natale del 1989 la morte di Ceausescu quindi come dire anche lì un passaggio molto veloce molto repentino da un paese con un regime anche molto dispotico in un paese poverissimo ecco che come dire il passaggio invece da un regime dalla tirannia diciamo a un regime più democratico quello diciamo è già stato un primo un primo elemento diciamo che c'è stato un gruppo di registi che si sono formati in quegli anni e che tra l'altro non hanno neanche tante caratteristiche comuni se non quelle di aver passato qualche anno all'estero in qualche università in Francia che aveva più fortuna di vincere qualche borsa di studio o come dire di appartenere a qualche circolo ecco che diciamo gli anni novanta sono stati fondamentali per la loro formazione perché invece appunto in Romania gli anni novanta diciamo non sono stati caratterizzati ecco da un conflitto come invece nella vicina Jugoslavia e poi diciamo questa questi anni formativi passati un po' come dire quasi in maniera carsica sotterranea ecco che esplodono all'inizio degli anni 2000 spesso le Nouvelle Vague esplodono con un autore o un film e un po' non so se siete presenti che in certi paesi non lo so una squadra di pallacanestro vince tutto ecco che cominciano tutti a giocare a pallacanestro no? e allora così si comincia la tradizione no? è successo voglio dire in Grecia in Spagna in Serbia no? o la pallanuoto no? allora perché perché questo? perché soprattutto nelle società più piccole più povere si cerca il successo perché il successo è un po' un biglietto da visita ecco molto ambito ecco che ti permette di elevarti da una condizione invece più mediocre quindi ecco nel caso per esempio del cinema rumeno c'è un film e un autore che è stato proprio quello che ha premuto il grilletto no? come dicono gli americani ed è Cristi Puyo Cristi Puyo la canzone di organizzata con il suo Marfa Cibani cioè la roba e la grana girato tutto in una macchina quindi con molti dialoghi serrati con mille angolazioni della sua macchina da presa molto duttile molto con un montaggio serrato e con tutti quegli stilemi e diciamo e quella grammatica stilistica che ancora ritroviamo in lui un'abilità diciamo un'empatia con gli attori una direzione di attori ineccepibile un elemento del humor che è quello che poi diciamo è un elemento fondamentale ma non solo del cinema rumeno proprio dei rumeni in generale non so se avete amici rumeni o se avete mai conosciuto ecco i rumeni hanno questo elemento dello humor un po' yiddish un po' mitteleuropeo che io trovo per esempio anche a Trieste un po' black un po' nero un po' diciamo e questo diciamo crea un po' il sostrato diciamo di tanta cultura rumena no? il gusto per la freddura no? ridere della morte ed è rimasto presente intanto il suo cinema ecco quel film lì in qualche maniera ha permesso forse ad altri rumeni di osare osare di mandare i film ai festival di fare cinema è una società molto piccola in realtà cioè i registi si conoscono tutti ecco che vediamo non so alcuni direttori della fotografia che improvvisamente li ritroviamo nei titoli di coda in tutti i film penso a Oleg Mutu per esempio che poi ha lavorato anche con lo Snitz in Ucraina e non solo o non so certi sceneggiatori Razvar Adulescu per esempio che ha lavorato con tutti c'è un travaso diciamo di tecnici figure professionali artistiche per cui c'è come dire un fermento è il momento buono no? è quello il momento in cui si comincia a scrivere a produrre fare eccetera poi diciamo le Nouvelle Vague come dire sono anche un label che strizza l'occhio allo spettatore che se vogliamo semplifica molto che per esempio agli autori non piace molto se per esempio chiediamo a non so a Puyo Mungiu Jude o Munte anche se sono i principali Porunboio i principali autori ecco che loro non amano né essere etichettati da questa Nouvelle Vague né amano essere etichettati insieme con gli altri quindi diciamo un autore fumo degli occhi degli altri dell'altro quindi bisogna stare anche lì molto attenti diciamo ad accomunarli se vogliamo negli anni è diventata una furbata da parte dei distributori e dei critici di accomunare diciamo un certo fermento di metterlo in una specie di di gran pentolone no? di fare di tutto un erbo un fascio perché questa cosa poi tra l'altro insomma è diventata un po' di moda è chiaro che quando poi la moda passa ecco che la Nouvelle Vague si trasforma in altro e oggi mi viene da pensare che il cinema rumeno non è meno vitale di quegli anni il cinema rumeno comincia a essere continua a essere uno dei cinematografie più vitali più interessanti più come dire multiformi non so mi viene da pensare sempre i rumeni anche inventano reinventano i generi non so quello del documentario usando l'animazione non so un nuovo neorealismo postmoderno ecco devo dire sono ecco la nuova entrata per esempio di autrici donne che all'inizio per esempio della Nouvelle Vague non c'erano non c'erano donne ce n'erano ma c'erano pochissime ecco adesso invece per esempio non so mi viene in mente anche Damian ma non solo delle autrici che hanno un po' squadernato diciamo le cose e hanno arricchito il panorama del cinema rumeno con altri generi altri stili altri temi per cui ecco il cinema rumeno oggi non è meno vivo di allora ma sicuramente è diversissimo da come è cominciato diciamo mi piace ricordare che forse si tratta di una delle Nouvelle Vague più longeve nel volume Nuova Cinema Nuova Storia del Cinema a cura di Beatrice Fiorentino edito da Hopli che è uscito quest'anno e che ho avuto l'onore di insomma di contribuire un pochino per quanto riguarda la parte dell'Europa centro-orientale ecco anche lì c'è proprio tutta una parte dedicata alle Nouvelle Vague e alle nuove tendenze delle cinematografie degli anni 2000 ecco che alcune sono state un po' un fuoco di paglia un fuoco fatto così come sono nate sono morte ecco invece il cinema rumeno continua 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 a produrre ogni anno dei film sorprendenti che continuano a colpirci e impressionarci ecco che sono appunto testimoni di una vitalità pazzesca ci può essere una spiegazione anche che va a che vedere con l'esistenza di film commission o comunque di organizzazioni che selezionano i lavori da produrre che ha un ruolo determinante rispetto a un altro di recente ho scoperto una vicenda di esempio di un montenegrino che adesso è sotto processo per avere denunciato come la struttura che seleziona i film nel suo paese fosse corrotta e quindi è stato denunciato per diffamazione ma ho sentito questo genere di ambientali in alcuni casi e in altri mi pare proprio nel caso della Romania invece mi è sembrato di capire che ci fosse proprio anche una struttura organizzativa che a un certo punto è stata messa in piedi o che per un certo periodo abbia avuto un ruolo particolare oppure è un'immagine che mi sono inventata io no non è un'immagine diciamo che proprio per quanto riguarda la Romania diciamo il centro nazionale di cinema rumeno non è così forte rispetto ad altri paesi per esempio non so Slovenia è fortissimo in Repubblica Ceca o Slovacca è molto forte in Ungheria per quanto riguarda la Romania penso che uno dei centri diciamo che ha rappresentato forse una tappa importante per questi registi sicuramente è stata la scuola di cinema Caragiale quella è stata una scuola di cinema che ha formato proprio intere generazioni di registi che poi ritornano per insegnare mi viene in mente Radu Giude non so quindi ecco i maestri hanno passato il testimone ai diciamo agli allievi quello che hai sollevato tu è interessante perché pone sempre di nuovo come si diceva prima la famosa questione tra diciamo disponibilità di mezzi economici e la qualità invece del prodotto artistico allora da un lato ma questo è un discorso molto ampio direi da un lato la creazione di istituzioni enti preposti diciamo alla finanziamento delle opere audiovisive mi vengono in mente i fondi regionali per l'audiovisivo le film commission i centri nazionali del cinema e varie agenzie ad essi collegate è chiaro che permettono banalmente uno alle società di produzione di vivere e quindi di avere i propri film finanziati mettere in circolo diciamo professionalità nuove spesso per esempio le film commission e i fondi regionali finanziano non solamente le produzioni ma anche la fase dello sviluppo dei film o la formazione quindi questo è preziosissimo ma penso al caso del Friuli Venezia Giulia da cui vengo che il fondo regionale per l'audiovisivo e la film commission sono stati fondamentali per la nascita di tantissime società di produzione di distribuzione di vendite internazionali in questo momento diciamo rappresentiamo un piccolo modello virtuoso se vogliamo quindi questo vale diciamo in tutte le società sia all'est che all'ovest poi bisogna stare un po' attenti secondo me a come dire ci sono tante piattaforme e tanti programmi di formazione proprio di training che sono nati grazie ai fondi europei in questo senso ce ne sono veramente tante basta pensare a Torino o a Midpoint o a First Cut Lab insomma ce ne sono veramente tantissime di altissimo livello l'impressione che ho è che bisogna stare molto attenti uno alle coproduzioni farlocche quelle un po' artificiali per cui alla fine un film è una sorta di euro pudding come viene definito quindi non so un film che ha coproduzioni con Francia Romania Svezia Lonsenburg perde un po' diciamo le sue caratteristiche più intrinseche quelle legate alla propria cultura la propria alla propria società una propria spontaneità i film non devono essere perfetti possono essere anche molto imperfetti ma devono avere un'anima devono avere come dire devono essere un po' fedeli a se stessi ecco idem tutti i film che io vedo passare da tutte queste scuole da tutte queste da queste piattaforme diciamo di training che affinano la scrittura lo sviluppo l'entrata al mercato da un lato consentono soprattutto diciamo agli autori delle opere prime di approcciare finalmente il mondo del mercato che come sappiamo è spietato è crudele nel mondo del cinema non è facile diciamo un po' una giungla solo pochi diciamo riescono a a come dire a produrre e a essere poi visti distribuiti eccetera eccetera dall'altro ecco c'è sempre il rischio di una ripetitività di una formula sempre uguale che un po' appiattisce e che un po' lima diciamo le grossonalità e quelle caratteristiche appunto glocal no? cioè globali ma soprattutto locali che invece per me sono come dire il sale di quello che poi andiamo a cercare vale a dire un festival non vuole solo i film presi dai listini o formule già precostituite e facili per cui un film polacco rassomiglia esattamente come struttura a un film ungherese a un film serbo se succede questo vuol dire che diciamo tutta la burocrazia europea con tutte le scuole ha ucciso diciamo quelle che sono invece le peculiarità fondamentali che differenziano un regista dall'altro e una tradizione cinematografica dall'altro questo non vuol dire che sono contraria alle piattaforme alle scuole ai treni assolutamente dico solo di fare attenzione ecco tra gli esempi più straordinari se si può dire così degli ultimi anni hai accennato al tema della presenza di donne nella cinematografia quella che a me chiaramente ha colpito di più è stata la presenza di donne registe del Kosovo che hanno avuto anche loro notevole visibilità premi e risultati ma anche che nel produrre il loro film hanno posto questioni di genere in una società che immediatamente le questioni di genere non sono la prima questione che vorrebbe affrontare e quindi tantomeno nel cinema come si spiega questo esploat kosovaro? come si spiega di nuovo andando a capire un po' la società e a capire le trasformazioni che ha avuto il Kosovo il Kosovo diciamo è una specie di anomalia in Europa nel senso che è riconosciuto non da tutti i paesi non è riconosciuto soprattutto da quei paesi per cui il Kosovo rappresenta una sorta di minaccia penso ai problemi che la Spagna ha con la Catalogna penso non lo so la Scozia l'Inghilterra nel senso il Kosovo è come dire qualcosa che non dovrebbe essere eppure è quindi diciamo hanno fatto già molta fatica a imporsi con un proprio Parlamento con una propria struttura burocratica politica ufficiale a darsi diciamo un sistema che permettesse loro di esistere con tutte le difficoltà del caso ecco che diciamo il fatto che nel Parlamento Kosovaro si siano stabilite delle quote rosa per esempio per cui un tot di numero di seggi di parlamentari dovesse essere donne questo è fantastico se pensate in un paese molto patriarcale con una società diciamo dove per le donne era veramente difficile esprimersi esprimersi proprio e partecipare al dibattito pubblico dei temi importanti naturalmente grazie e poi diciamo la nomina di un presidente donna che non aveva neanche 40 anni quando è stata eletta la Osmani una giurista che ha sbaragliato tanti 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 competitor maschi e che conseguentemente a questo addirittura nel Parlamento abbiano superato la percentuale delle quote quindi nel 30% sono arrivati al 37% e che poi negli ultimi anni per esempio anzi recentemente il centro di cinema Kosovaro abbia una donna come presidente o come direttrice insomma come a capo che è la regista Blair Tasekiri stata una persona simpaticissima ecco che diciamo il panorama a questo punto come dire è pronto è fertile è più facile per le donne di impossessarsi della scena pubblica nel senso quando le strutture politiche economiche e quelle che poi danno anche i finanziamenti ai film danno ampio spazio alle donne nelle figure proprio di leadership di un paese giovane ecco che le cose cominciano a cambiare molto rapidamente e in effetti negli ultimi anni penso che sia una delle pochissime nouvelle vague insomma come dire trend diciamo in Europa e non solo in Europa per cui diciamo questo giovane cinema kosovaro di cui conoscevamo molto poco se non diciamo i capostipiti o diciamo i vecchi maestri come Nisa Kosha per esempio ecco che lascia spazio diciamo a tutta una giovane generazione che ha sofferto moltissimo la guerra che ha sofferto moltissimo un'identità che ancora oggi diciamo è minacciata dall'interno e dall'esterno una generazione che cerca ancora uno spazio all'interno del proprio paese ma anche all'esterno del proprio paese ripeto non riconosciuto ancora universalmente da tutti e dove le donne hanno preso ampio spazio occupandosi di molti temi tra cui anche temi di genere facendolo a modo loro naturalmente donne quasi ma ricordiamo insomma sono Blerta Bescioli Blascioli Lendita Zekirai Blerta Zekiri Antonetta Castrati Caltrina Krasnicki Luana Bairami è un po' diverso perché nel suo caso è una kosovara che abita in Francia me ne sono dimenticata qualcuna sicuramente More Russia e altre sicuramente insomma vabbè qualcuna me ne sono dimenticata ecco che questo è un gruppo di donne che attraverso il cortometraggio il documentario ma soprattutto i film di fiction ha raggiunto un successo straordinario parlando di loro parlando delle donne nella società kosovara non si sono allontanate dal Kosovo hanno avuto il coraggio di parlare della società senza aver la paura di fotografarle in maniera molto lucida molto critica parlando di come le donne riescono a gestire per esempio tutta la parte familiare la famiglia le famiglie in Kosovo sono spesso di gestione femminile parlando dei traumi della guerra insomma è un tipo di cinema che è lontano dall'essere per esempio da raggiungere una dimensione epica che spesso nel sud-est Europa europeo diciamo gli uomini diciamo i cineasti uomini hanno una tendenza a cercare diciamo nelle radici storiche ed epiche nelle saghe nazionali una loro identità precisa nazionale ecco che le donne operano una sorta di shift per cui diciamo la ricerca di un'identità non è esattamente una ricerca di identità nazionale ma una ricerca di un'identità di gender e politica cioè il corpo della donna diventa corpo politico e quindi diciamo pongono diciamo il loro tipo di ricerca di indagine su un livello completamente diverso e quindi diciamo mi interessa moltissimo per esempio attraverso il cinema kosovaro ma attraverso anche la letteratura kosovara proprio l'indagine e lo sviluppo di un femminismo se vogliamo postmoderno in cui le kosovare proprio si mettono come un gruppo come un movimento perché esiste questo movimento sono tutte amiche si conoscono c'è molto dibattito diciamo all'interno di queste figure proprio su dove sta andando questo femminismo e come questo femminismo che è un femminismo militante culturale diciamo post ideologico perché non necessariamente diciamo ha delle connotazioni ideologiche o politiche però diciamo sta aprendo delle brecce importanti anche nella società kosovara e questo non è da poco voglio dire il cinema mi sembra che nel resto diciamo dell'Europa purtroppo non abbia questo ruolo così importante penso al cinema italiano ecco il cinema italiano anche quello autoriale non riesce più se vogliamo a penetrare diciamo in Italia la cultura italiana e a lanciare dei dibattiti larghi cioè che riguardino veramente tutti ecco quindi questo diciamo succede invece forse nelle società più piccole come quella kosovara dove forse si conoscono tutti dove forse è più facile anche magari incontrarsi conoscersi e parlare comunicare no però forse diciamo ecco rimane per me un modello un esempio forse anche per tutti i paesi diciamo vicini che invece ecco questo tipo di fenomeno non è stato ancora adottato penso al cinema serbo che rimane soprattutto un cinema molto maschile ma anche il cinema rumeno abbastanza voglio dire il cinema bulgaro un po' meno ma insomma ecco rappresenta forse un caso isolato che speriamo invece si possa contagiare altre società limitrofe a proposito dei temi i temi sono in parte influenzati anche dalle coproduzioni l'altro giorno una regista mi diceva si aspettano da te che parli a tutti i costi di guerra e quindi se sei per sponsorizzare un tuo film non puoi spostarti su un altro tema anche se poi appunto come a volte nel caso dei registe donne appunto si vede anche ben altro però la guerra è anche parlare della guerra o di quello che è successo una ventina d'anni fa è ancora importante per questa società è ancora poco elaborato è ancora una questione forte è così è quello che ci dice in particolare il cinema serbo ci sono altre altri esempi in questo senso sì sicuramente il cinema balcanico sto pensando soprattutto il cinema serbo bosniaco c'è un'elaborazione del lutto e quanto dura il lutto il lutto può durare anche decenni sicuramente una generazione una mia giovane collaboratrice al festival una ragazza sarei vita giovanissima dice ma io sono stufa di parlare di guerra ha ragione ma la guerra ha lasciato delle cicatrici per cui si vedono sono cicatrici ancora oggi molto evidenti il cinema serve anche elaborare questo lutto il fatto di parlarne il fatto di raccontare le storie il fatto di raccontare il paese dopo la guerra perché per parlare di guerra non occorre parlare solo di guerra si può parlare anche di tutto quello che viene dopo c'è della società di oggi di come la guerra abbia inferti dei colpi durissimi a una società che si è ritrovata per esempio riguardo non so penso ai bosniaci una società senza maschi tutta una generazione non c'è più è scomparsa penso alla zona ma non solamente vicino a Srebrenica diciamo ci sono villaggi in cui i maschi sono scomparsi e quindi ricostruire diciamo un futuro poggiandolo su basi diverse non è facile ecco diciamo per quanto riguarda il cinema bosniaco mi sembra interessante un elemento un elemento che non ritrovo negli altri cinema e che forse è un elemento anche come dire consono ed è all'interno diciamo tipico della cultura della Bosnia Herzegovina è lo humor attraverso il senso un humor attraverso l'umorismo l'ironia che è tipica dei bosniaci tutte le barzellette nei paesi balcanici hanno i bosniaci come protagonisti sono un po' un po' sono diciamo barzellette su di loro un po' come le nostre barzellette sui carabinieri no? le barzellette di Serbia sono tutte sui bosniaci perché il bosniaco è sempre stato visto come l'uomo sempliciotto l'uomo che viene dalla campagna da un mondo ancora molto rurale molto arcaico poco tecnologizzato poco digitalizzato eppure quell'uomo l'uomo bosniaco è un uomo che è proprio perché è stato dominato massacrato nel cuore della Jugoslavia un paese che ancora oggi è dilaniato con un sistema politico che non si sa diciamo se continuerà così ancora per molto tempo è chiaro che per sopravvivere per gettarsi alle spalle un certo passato anche se poi il passato è molto recente ecco l'unica arma è l'ironia ma questo voglio dire cosa vi ricorda? vi ricorda anche un certo tipo di cinema italiano la commedia la commedia italiana negli anni gli anni cinquanta voglio dire era proprio questo siamo miseri siamo senza scarpe o con le scarpe rotte ma ridiamo e attraverso la risata però esorcizziamo il dolore il male le sofferenze è l'unica maniera poi diciamo questo umorismo diventa canone diventa stile per cui allora ci si aspetta anche da un certo tipo di cinema bosniaco mi viene in mente non so l'ultima commedia di Dani Stanovic che è stato forse il primo regista bosniaco a conoscere il successo internazionale grazie al premio Oscar con No Man's Land ma mi viene a pensare anche certi film di Jesmila Sbanic che forse tutti conoscono per Cuo Vadis Aida ma prima di quello ha realizzato altre opere meno famose con molto senso humor prendendosi molto in giro con molta auto ironia che è un altro tratto diciamo importante della cultura bosniaca ecco che quello forse può diventare diciamo un modo per raccontare una guerra forse come dire senza far soffrire troppo gli spettatori o diciamo è un modo per cui come dire le guerre è difficile raccontarle soprattutto per chi le ha subite e in genere diciamo i modi sono due o ridiamo o scegliamo la poesia e allora attraverso il lirismo diciamo la poesia ci permette attraverso le metafore le allegorie di rappresentare il dolore in una maniera per cui non ci faccia troppo soffrire per cui ne capiamo la portata allegorica ma senza come dire soffrire troppo un paese invece che ancora oggi è molto segnato dalla guerra dalle conseguenze della guerra e che dalla guerra non riesce a come dire a scappare dalla guerra la guerra è presente in tutti i film anche dove non viene menzionata anche dove come dire non è la protagonista ma la guerra c'è si vede è ovviamente il cinema serbo e tra l'altro il miglior cinema serbo è proprio quello che parla di guerra questo ovviamente perché diciamo i giovani artisti serbi mi viene in mente diciamo non so due su tutti anzi tre forse sono Serdan Golubovic Ogni Englavonic e Vladimir Perisic o Ivan Ikic insomma sono tre quattro a dire la verità sono quelli che forse più degli altri e meglio degli altri hanno saputo mettere la propria società alla berlina quindi come dire condannando un certo tipo di potere nazionalista condannando il proprio governo condannando le scelte fatte cercando di capire il passato in maniera lucida senza scuse senza senza alibi mettendosi proprio a nudo ecco questo è un cinema che per esempio ovviamente fumo negli occhi per il governo serbo che infatti è un cinema che non viene sostenuto se guardate ai candidati banalmente i candidati agli Oscar della Serbia negli ultimi paesi sicuramente non ritroverete né i film di Golubovic né i film di Perisic né i film di Perisic ecco chiedetevi il perché perché sono film che chiaramente non sono un biglietto da visita ideale di questi paesi sono film che non non promuovono non fanno la pubblicità diciamo della Proloco per cui invogliano i turisti stranieri a investire o a passarvi le vacanze ecco sono autori che invece hanno il coraggio di dire le cose come stanno e accettando ovviamente tutte le conseguenze del loro atto e cioè di non avere accesso a un certo tipo di promozione internazionale che invece renderebbe loro molta giustizia se invece tocchiamo un altro paese che purtroppo la guerra la sta vivendo oggi cioè ovviamente l'Ucraina ieri durante il seminario che abbiamo dedicato alla guerra mi è venuto naturale citare il film che noi il documentario che noi abbiamo premiato l'anno scorso come già quest'anno Hamlet Sindro Hamlet Sindro scusami che mi aveva che ovviamente ci aveva tanto colpito proprio perché riusceva a parlare di questa generazione che ha vissuto la guerra dal 14 che ha sofferto così fortemente e che sta soffrendo così fortemente che cosa cosa possiamo dire di questo cinema ucraino di come cosa ci racconta beh il cinema ucraino di fatto non esisteva fino a qualche anno fa so di dire una cosa terribile spero di non venire linciata però di fatto nel passato era cinema sovietico quindi grandi autori che oggi gli ucraini chiamano ucraini di fatto erano autori sovietici se pensiamo ai grandi maestri grandissimi maestri come Alexander Dovgenko o Maya Deren che è diventata in realtà famosa come sperimentatrice americana alla fine quindi nessuno si ricorda le sue radici diciamo nell'Unione Sovietica o Kira Muratova o Darissa Shepitko diciamo sono grandi nomi di cui ovviamente gli ucraini vanno fieri oggi ma di fatto come dire appartengono proprio a tutto un altro mondo un mondo per cui anche se giravano in Ucraina e avevano una parte diciamo dei loro studi a Odessa Odessa era una specie di cinecittà a Ucraina poi però i film come dire venivano per sviluppare diciamo i film si andava a Mosca quindi era un cinema che dialogava per forza con la casa madre che era Mosca oggi diciamo il cinema ucraino se vogliamo anche lì c'è una data importante per cui se andiamo indietro nel passato e anche a chi si occupa diciamo di cinema ucraino se chiediamo ma quando è che abbiamo cominciato veramente a occuparci di cinema ucraino ovviamente è stato il 2014 quindi con la rivoluzione della dignità da Euromaidan ecco quella è stata forse la prima data in cui gli stessi russi molti russi dissidenti o certi diciamo documentaristi mi viene in mente Evgeni Mitta è stato a Maidan si è occupato per esempio delle Pussy Riot si è occupato delle Femen Ucraine quindi diciamo si è occupato di tutti quei movimenti alatere diciamo di Euromaidan che sono esplosi negli anni successivi che anche lì di nuovo è interessante che sono le donne no? essersi occupate di un di arti performative ad alto tasso politico dove arte e politica di nuovo il corpo delle donne in questi paesi ridiventa un corpo politico ma ritornando diciamo al cinema diciamo il cinema ucraino è un cinema che è diventato famosissimo soprattutto diciamo ad alcuni autori ad alcuni autori che immediatamente in questi anni ci hanno fatto capire quel paese un paese di cui noi non parlavamo diciamoci la verità noi occidentali dovremmo anche un po' vergognarci nel senso che questa guerra su larga scala no? sembrava no? ne parliamo spesso come se fosse un fatto assolutamente improvviso o che non abbia legami con il passato ma la guerra in Ucraina è nata ed è cominciata nel 2014 con i primi morti con le prime manifestazioni in Piazza Maidan e con le prime lacerazioni nel Donbass quindi come dire parliamo veramente di un di un conflitto oramai lontano nel tempo ecco i primi che ci hanno parlato di questo conflitto sono sicuramente lo Snizza autore apolide che gli stessi ucraini non considerano ucraino un autore in realtà con radici bielorusse un autore sovietico così come tanti autori diciamo nell'ex Yugoslavia nati in Croazia con padri serbi hanno studiato a Sarajevo ancora oggi si considerano iugoslavi ecco lo Snizza rimane un autore sovietico senso che per le sue posizioni politiche estreme è stato addirittura incarcerato da Putin e che addirittura dal carcere ha realizzato un film all'esterno con la collaborazione diciamo di tanti suoi collaboratori e ancora Vitalimansky forse il più grande documentarista ucraino che ha vissuto a Mosca e che vive in esilio in Lettonia addirittura a Riga ha diciamo creato un festival Hard Rock Fest Vitalimansky non può più tornare a Mosca diciamo c'è la sua faccia alle Dogani per cui diciamo è un ricercato politico oppure un altro regista diciamo che ci ha colpito tantissimo Slabo Spitzky che tanti anni fa con il suo The Tribe è stato forse il primo a restituirci il mondo violento ucraino con questo famoso film che in realtà ambientato in un istituto per sordi è tutto parlato diciamo con il linguaggio dei sordomuti quindi anche quello molto interessante ecco oggi diciamo poi ci sono Valentino Bassiano vice Antonio Lucchi insomma ce ne sono molti altri l'anno scorso a Trieste abbiamo dedicato un focus alle cineaste ucraine quindi alle donne ucraine ecco anche lì mi piace ricordare il fatto che c'è anche lì una sorta di non dico divisione ma diciamo una diversa sensibilità a raccontare la propria società a raccontare la guerra che registe quali Natalia Voroshbit Alissa Kovalenko Marina Ergorbach la Horlova la Hornstein la Nikituk la Parfan la Soci Vietze e tante altre rappresentano oggi un cinema militante impegnato in difesa di un'idea libera e democratica di società ma anche del fare cinema che anche qui diciamo si differenzia dallo sguardo maschile dei propri colleghi forse per una dimensione meno epica meno eroica meno nazionalista a parte qualche eccezione e forse con una dimensione più intimista più familiare più ambigua più di frontiera in qualche modo un cinema un po' borderline tra documentario e fiction più ibrido che sa forse andare a scandagliare diciamo nella società ucraina quelle che sono le radici di una guerra oramai intollerabile grazie mille io lascerei un attimo la possibilità a qualcuno di voi di fare una domanda e allora devo accompagnare un microfono buonasera Dan Ion presidente dell'associazione rumeni del Trentino Alto e io devo anzitutto ringraziarla per tutto il lavoro che Trieste Film Festival fa per promuovere questi autori del cinema dell'est e ho una curiosità e una domanda la curiosità è semplice qual è il suo regista rumeno preferito la domanda invece è legata al fatto che sappiamo tutti che questa new wave dopo l'89 dei registi rumeni ha avuto grande risalto insomma in occidente e mi è piaciuto molto che ha nominato il fatto che tuttora i registi rumeni e il cinema rumeno è fervido è vivo qual è la sua opinione su due temi che appunto i registi rumeni hanno affrontato di recente e che in occidente hanno fatto anche un po' diciamo discutere poi lascio a lei spiegare magari al pubblico che non ha visto i film di cosa si tratta ma per darle lo spunto parlo di Dupe de Aluri dietro le colline e di Illegitim del mio carissimo amico Adrian Sitaro grazie qualche altra domanda così le raccogliamo tutte e poi uno o due io invece volevo chiedere abbiamo già menzionato questa cosa riguardo al cinema serbo al mancato supporto delle istituzioni del governo serbo rispetto a un certo cinema se poteva spendere qualche parola in più riguardo al fenomeno simile che c'è in altri paesi tipo Polonia Ungheria se poter un po' appunto ampliare quel discorso lì ok io volevo chiedere la stessa cosa no io non mi intendo di cinema nel senso che ne guardo tanto guardo cortometraggi ma non so mai che cosa vedo non conosco i registi ma l'impressione che ho avuto in questi anni è che il cinema dell'Europa centro-orientale abbia la grande capacità di metterti in difficoltà di andare a toccare temi difficili e di non essere consolatorio nei confronti dello spettatore mi viene da pensare che questo sia un fenomeno dovuto all'elaborazione di tutta una serie di traumi storici o comunque di un'epoca di transizione che ancora non si è conclusa c'è il rischio che il cinema dell'Europa centro-orientale diventi come il cinema mi permetta insomma una banalizzazione forse un'estremizzazione ma come il cinema dell'Europa centro-occidentale insomma che tende invece ad andare più incontro al gusto degli spettatori ad essere più consolatorio ad essere più facile ecco mi chiedo se la normalizzazione delle società dell'Europa centro-orientale non porti poi alla fine di un certo tipo di cinema allora magari rispondo prima allo spettatore rumeno non so esattamente perché ha citato questi due titoli ai legittimi e al di là delle colline mi sembra che da un lato ci sia comunque l'elemento religioso probabilmente è legittim però ecco legittim come dire affronta comunque il caso dell'incesto certo appunto ci sono due tematiche che cosa vuole esattamente sapere cosa ne penso di che cosa esattamente del fatto di se queste tematiche hanno scombussolato diciamo il mondo occidentale oppure semplicemente è un altro modo di trovare temi per perché magari quelle legate alla rivoluzione si sono esaurite non hanno scombussolato nessuno anzi semmai danno spunti per dibattito forse questo voleva intendere spunti per dibattito quello certo ma non solamente allora quando si parla di incesto e soprattutto quando perché vabbè è difficile perché il pubblico forse non ha visto questi due film uno di Mungiu e uno di Sitaru sono due film che parlo allora nel caso dell'incesto l'incesto non deve leggerlo solamente come un fatto di cronaca un fait divers è come dire ha sempre un livello più alto che è quello allegorico naturalmente cioè che cosa l'incesto mi sta a rappresentare io credo che in entrambi i casi i due cineasti che sono comunque due persone intelligenti e che attraverso il loro cinema raccontano molto la società rumena tratto voglio ricordare un film straordinario come quello di R.M.N. di Christian Mungiu dell'anno scorso a Cannes ecco andate a vederlo a Rovereto prendete il treno andate a Rovereto prendete la macchina perché ecco quello è un altro film che è una radiografia spietata della società rumena molto di più cerca di depistarci con una storia ma in realtà diciamo la storia della società rumena viene fuori l'incesto io lo vedo come un'allegoria comunque mi sta rappresentare come dire una società per cui il passato e il presente è un incesto tra passato e presente per cui un certo modo di pensare un certo tipo di società che è vissuta diciamo con i servizi segreti le delazioni eccetera sia ancora presente oggi perché ovviamente i nonni i padri i zii i prozii diciamo delle giovani generazioni facevano parte di quella società e quindi quel tipo di società c'è ancora perché di fatto quelle generazioni non sono ancora scomparse e i giovani in qualche modo più o meno consapevoli perché anche un incesto può essere più o meno consapevole in qualche porto portano il germe di quel male è un interrogarsi come vogliamo dirlo sul DNA di questo male è un interrogarsi se su questo male poi germoglia oppure no ecco mi sembra che attraverso lo strumento del cinema ci si può interrogare su questo ovviamente né Sitaru né Mungiu danno facili risposte loro lanciano diciamo il sasso nello stagno poi sta a noi come dire trovare trovare dei modi per capire per analizzare per dibattere diciamo su questo tema ecco però diciamo in entrambi i casi l'incesto non è un fatto di cronaca non è come dire esattamente solo un fatto come dire di denuncia ma rappresenta tanto altro e soprattutto tanto altro quindi forse proprio per questo diciamo sono anche di difficile lettura perché sono dei film che diciamo oltre al livello you can see what you get what you can see ecco c'è tanto altro invece invece dietro dal punto di vista invece di scusi la prima era sul non me la ricordo più non rispondo mi prendo la facoltà di non rispondere e invece per quanto riguarda Polonia Ungheria allora la Polonia è un caso molto diverso per esempio se pensiamo no perché il discorso la domanda era su quanto i centri nazionali di cinema supportino o meno il proprio cinema in realtà lo fanno in maniera diversa in maniera alta allenante ma di fatto lo fanno per quanto riguarda la Polonia la Polonia in questo momento in Europa diciamo nell'Europa centrale perché poi Polonia è centrale non è orientale è uno dei paesi più prolifici cioè il numero di film prodotti ogni anno in Polonia è impressionante e sono film realizzati con dei budget anche abbastanza costosi quindi se vogliamo diciamo è e non parliamo del punto di vista artistico o estetico o se ci piace o meno il cinema polacco ma diciamo è un momento molto molto diciamo felice dal punto di vista proprio meramente produttivo cioè su quanti film vengono realizzati poi diciamo sul livello diciamo estetico dipende ci sono delle annate più fortunate delle annate meno fortunate quest'anno chiaramente diciamo il cinema polacco ha due titoli e sono uno è Green Border di Agneska Holland e l'altro è Peasants che non mi ricordo più l'autrice adesso c'è un blank lei quella di Loving Vincent diciamo sono entrambi film ad alto budget molto molto belli ma comunque ad alto budget quindi quella è una situazione direi molto fortunata per quanto riguarda l'Ungheria invece la situazione è completamente diversa nel senso che grandi autori mi viene in mente il bad boy del cinema ungherese e cioè Cornel Mundruzzo oramai diciamo i finanziamenti non vengono più dall'Ungheria ed è anche un autore che vive tra Budapest e Berlino che realizza i suoi film con soldi tedeschi francesi eccetera eccetera ma perché diciamo il cinema ungherese di nuovo è un cinema che diciamo l'organo statale preposto a finanziarlo è un organo statale sappiamo di che paese e con che governo e quindi finanziano con priorità diciamo dei prodotti cinematografici non sempre all'altezza diciamo delle nostre aspettative mettiamola così i veri autori diciamo in Ungheria soffrono e sto parlando di Gheorghi Palfi appunto di Mundruzzo e tanti altri diciamo sono tutti autori che quando riescono a realizzare i film chiaramente lo fanno con fondi non solo non solo statali non solo nazionali è un cinema però che continua a essere molto interessante è un cinema di denuncia anche quest'anno per esempio il film che ha vinto la sezione orizzonti della mostra del cinema di Venezia Explanation for Everything è un cinema è un film molto coraggioso che parte da una storia molto semplice parte dalla scuola da una famiglia da un ragazzo dai suoi insegnanti e da una storia apparentemente semplice c'è un caso come dire che esplode e che va proprio a come dire criticare diciamo le derive nazionalistiche di estrema destra del paese tutto fatto però in una chiave molto molto bassa molto molto semplice molto così è chiaro voglio dire ma anche l'Italia non è che siamo messi tanto bene nel senso noi pensiamo sempre all'est Europa come dei paesi che in qualche modo hanno ereditato regimi appunto autoritari anche all'ovest non siamo messi benissimo nel senso che si tende comunque a dare priorità come diceva qualcuno nel pubblico a film che in qualche modo rappresentino un conforto o comunque diciamo non ci lasciano turbati ecco ricordatevi che la vera arte ci turba invece invece moltissimo e quindi non esiste arte di conforto l'arte di conforto non è arte l'arte è in qualche modo ti deve lasciare con con un sentimento che non è un sentimento necessariamente catartico a volte invece come dice ci sconvolge e quando non ci sconvolge ci fa pensare per giorni e giorni quindi i veri autori anche nell'Europa occidentale invece non rappresentano questo conforto quindi voglio dire questa è una è una condizione poi comune all'est e all'ovest lì non ci sono frontiere non ci sono confini l'arte è questo insomma non deve non deve rappresentare un conforto i film più belli non parlano di eroi parlano di perdenti come la letteratura più bella non parla mai di eroi parla di perdenti almeno nel mondo moderno non nel mondo classico naturalmente quindi ecco finisco col dirvi non fidatevi dei film che glorificano un paese con gli eroi non fidatevi dei film che parlano di eroi sicuramente sono film di propaganda o film in cui come dire il primo diciamo il primo esigenza il primo bisogno non è sicuramente quello di di un bel film o diciamo non è non è un diciamo un'esigenza artistica sarà sicuramente un'esigenza di di altro tipo politica ideologica e così via posso? certo premetto che io sono molto ignorante di questa materia e sono straordinariamente entusiasta di averla ascoltata oggi anche con le ottime domande che sono state fatte lei ha una cultura strepitosa mi fa mi farebbe gran voglia di conoscere almeno una minima parte delle cose dei film di cui e di ciò che sta dietro i film di cui lei ha parlato in modo straordinario comunque ha fatto una lezione magistrale detto questo faccio due esempi chiedendole se c'è qualcosa di rispettivo nell'Europa orientale o centro orientale come lei qualche volta ha corretto giustamente perché da noi è tutto est ma molto è Europa centro orientale vuoi dire a un polacco che orientale ma guardi io come è proprio una figuraccia tremenda come parlamentare nel 90 ero senatore all'epoca con una commissione del senato abbiamo fatto un giro nei paesi Ungheria Polonia Deder che non era ancora unificata eccetera e al presidente della commissione che era un vecchio democristiano Gorbari brava persona morta e continuava a parlare dell'Europa orientale e ho detto prima di partire gli ho detto Presidente se posso darti un consiglio di sempre Europa centro orientale perché si offendono ecco detto questo che è un ricordo personale io penso a due film tedesco occidentali fatti sulla The Air Goodbye Lenin e La vita degli altri secondo me due film bellissimi straordinari io non sono un esperto però come lei parlo da cittadino c'è qualcosa del genere sono due film tedesco occidentali sulla Europa sulla Germania in questo caso possiamo dire orientale ma nel senso della DDR un sistema autoritario basato sul controllo sociale lo spionaggio e tutto il resto c'è qualcosa del genere in questa filmografia straordinaria che lei ci ha prospettato oggi fatto invece dall'interno di queste società che hanno vissuto il regime autoritario o totalitario a seconda dei casi che lei ci possa indicare forse ce li ha già indicati indirettamente ma mi piacerebbe se c'è qualcosa di simile quelli erano due film secondo me bellissimi ma fatti dalla Germania ovest sulla Germania est anche con molta ironia un film carico di ironia tutto quanto no no ma giustamente lei ha citato anzi due film di grande successo due bei film ma il problema è proprio quello è uno sguardo occidentale sul mondo orientale abbiamo già detto tutto nel senso che voglio usare le parole devo essere rispettosa diciamo spesso gli occidentali per far passare la storia recente che è molto difficile ancora da raccontare da digerire perché siamo ancora veramente nell'elaborazione del lutto per farlo capire al mondo occidentale le società occidentali devono trasformarle in un prodotto facile da vendere non so se mi sono capita se mi sono spiegata nel senso Goodbye Lenin l'ha visto anche mio nonno senza che lui guardasse gran gran cinema eccetera lui era tutto chiaro perché c'erano tutti i riferimenti che noi occidentali conosciamo compresa la Coca Cola alla fine diciamo hanno accuratamente tolto qualsiasi riferimento che invece un tedesco per esempio orientale avrebbe messo per un pubblico anche come dire ecco allora come dire un conto è parlare di un tema importante come questo il passaggio dalla DDR alla reunificazione delle Germanie con un prodotto di successo che ha sicuramente diciamo il vantaggio e il merito di aver raggiunto un pubblico molto molto largo perché è stato uno dei campioni al botteghino se non sbaglio in quegli anni con un attore molto famoso Daniel Brühl con grandi produttori alle spalle quindi tutto bene ma diciamo ha avuto successo perché ha abbracciato degli stereotipi e dei cliché per vendere diciamo alcuni temi in maniera molto facile allora e questo anche con la vita degli altri perché la vita degli altri in realtà racconta comunque di una tragedia una tragedia comunque il fatto che gli artisti erano censurati erano controllati e per la maggior parte diciamo dei casi avevano diciamo le spie che li controllavano li ascoltavano eccetera che poi appunto il fatto interessante per me di quel film è alla fine che l'artista riesca poi a recuperare tutti i dati diciamo che lo spionaggio poi ha messo a disposizione dei cittadini e questo è vero tra l'altro in tutta l'est Europa questo è verissimo cioè di fatto ci si può si può andare a leggere quello che le spie scrivevano e notavano sulle vite private dei libri cittadini questo succede anche in Romania tra l'altro però anche lì diciamo è un film che toglie in maniera molto metodica diciamo tutti quegli elementi che potevano dar fastidio o turbare diciamo il pubblico medio occidentale quindi come dire ha un po' indorato la pillola per raccontarci la storia la storia è quella la società è quella è successo quello ma ce lo racconta in una maniera come diceva qualcuno del pubblico in maniera che per quella fine non siamo così turbati non ci dà fastidio alla fine come dire riusciamo a digerire quella storia ci piace diventa come dire una cosa che noi accettiamo ecco che invece un certo tipo di autore o di cinema autoriale intellettuale se vogliamo non so se si può dire ancora la parola intellettuale senza venire linciati pubblicamente ma diciamo un certo tipo di autore che si impegna attraverso la propria arte a raggiungere la verità e lo diceva anche Kitz la verità è bellezza la bellezza è verità quindi senza veli senza anche insomma anche con la volontà di disturbare e di diciamo e di raccontare quindi il proprio la propria società il proprio mondo le proprie storture le proprie contraddizioni senza velo ecco che lì un film diventa arte non è più solo un prodotto è arte è arte soprattutto se diciamo a livello estetico poi raggiunge tutta una serie di canoni che diciamo che la critica cinematografica richiede perché un film sia considerato un bel film naturalmente questo diciamo viene fatto sistematicamente da tutta una serie di autori nell'est Europa o nell'Europa centro orientale e sono gli autori che mi interessano di più sono gli autori che senza paura con coraggio con prendendosi di nuovo nel caso di autori serbi tutte le conseguenze dei loro atti riescono a raccontare senza orpelli e senza cliché le cose come stanno raccontando delle storie portando la realtà nei propri film si parla tanto di cinema del reale che cos'è il cinema del reale è proprio questo cioè quando diciamo o un film di fiction riesce a inglobare elementi diciamo di documento di documentario e quindi la realtà entra diciamo nel film o proprio quando la realtà si impossessa di un film e quindi è inutile come dire servirsi di artifici quando la realtà tra l'altro è così ricca di storie da riempire immagino sceneggiature per i prossimi 20-30 anni ed è questo forse che manca un pochino a un certo tipo di cinema occidentale forse la mancanza di una capacità lucida critica di guardare la realtà anche quella brutta e si può fare l'ha fatto Pasolini forse Pasolini è stato l'unico l'ultimo grande a raccontare una realtà brutta ma con la poesia ecco la poesia riesce e ci permette di apprezzare di amare anche anche le storture anche le brutture del mondo in cui viviamo grazie mille io vorrei chiederti un'ultima cosa prima di di andare verso il film sei stata tu a suggerircelo quindi ti vorrei chiedere senza naturalmente toglierci la sorpresa perché ci hai consigliato Klondike e perché quindi con coraggio arriveremo a vedere dopo questa maratona di oggi allora brevissimamente innanzitutto perché mi sembrava interessante proporre un film diretto da una donna scusatemi ma per me è importante questa è una cosa su cui batto anche sul festival perché negli ultimi anni le donne hanno più spazio hanno realizzato dei bei film e bisogna omaggiarle secondo me il più possibile attraverso anche questi eventi culturali anche attraverso festival mi sembra che fosse diciamo la l'opportunità più giusta più adatta e il film che ha rappresentato l'Ucraina agli Oscar l'anno scorso ecco qui ci sono abbastanza d'accordo diciamo sulla sulla scelta e un film che ci riporta indietro diciamo appunto agli anni di Maidan si svolge diciamo in una in una zona rurale di frontiera dell'Ucraina quindi diciamo la scena non è urbana ma rurale e la frontiera è forse diciamo l'elemento più importante per interpretare il film è una storia molto semplice di una donna tanto interpretata da una splendida Oksana Cerkashkina che tra l'altro è una delle protagoniste del Hamlet Syndrome il documentario che avete premiato l'anno scorso è una storia di una donna incinta che vive in una casa da cui non vuole andare via una donna resiliente resistente che vuole stare lì a prescindere da dove sia questo lì e da chi apparterrà questo lì perché la cosa importante è che è un territorio che le appartiene lei sente di appartenere a quel territorio e a prescindere da chi se ne impossesserà lei da lì non se ne vuole andare e invece diciamo le figure degli uomini sono quelle che forse più si dividono su questo territorio ci sono i filo separatisti e invece quelli che pensano che quel territorio deva rimanere in mano gli ucraini e la guerra irrompe con tutta la sua brutalità non vi racconto la storia la storia come dire la dovete guardare voi diciamo che una figura una figura reale ma anche retorica una figura allegorica del film che un po' se vogliamo è il simbolo di questo film è un buco nel muro la casa di questa coppia viene semidistrutta no? c'è una bomba che fa esplodere una parte del muro e noi la maggior parte di questo film lo vediamo attraverso diciamo questo questo buco enorme della parete e quindi spesso i personaggi all'interno della casa guardano fuori ma siamo anche noi dal di fuori che guardiamo loro dentro e questo buco è veramente un simbolo diciamo di questi mondi lacerati di questi frontiere frontiere frantumate di queste persone che non hanno più un'identità alla ricerca di un'identità non solo nazionale ma proprio di appartenenza ecco e questo buco nella parete mi sembra che riassuma bene questa ricerca grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti